Il regolamento del Consiglio Comunale di Santa Marina lede i diritti dei consiglieri comunali. Il CAR di Salerno, con sentenza numero 3.115 del 2023, ha accolto il ricorso che i consiglieri di opposizione di Santa Marina avevano presentato contro il Comune dopo che il 16 giugno del 2022 l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Fortunato aveva approvato un nuovo regolamento del Consiglio Comunale e ha annullato i sei articoli del documento al centro dell'azione giudiziaria. I consiglieri da subito avevano contestato l'eccessivo potere discrezionale conferito dal regolamento al sindaco presidente del Consiglio e l'annullamento del ruolo della minoranza, impossibilitata ad assumere qualsiasi azione in Consiglio a causa dell'inalzamento del numero minimo per la presentazione di mozioni, l'istituzione di commissioni speciali e temporane per la modifica dell'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno e diverse altre prerogative. Ora il TAR ha accolto le censure mosse dai consiglieri rappresentati in giudizio dall'avvocato Pasquale D'Angiolillo a diversi articoli del regolamento con una sentenza che entrando per la prima volta così nello specifico delle prerogative proprie dei consiglieri comunali fa giurisprudenza. Il TAR ha evidenziato che effettivamente al sindaco presidente del Consiglio veniva concesso troppo margine di discrezionalità avendo addirittura anche la possibilità di intervenire oltre il regolamento stesso nei casi in cui dovessero verificarsi situazioni non previste. Il Tribunale accogliendo le tesi della minoranza di Santa Marina afferma invece che la potestà di decidere sulle eventuali lacune o questioni interpretative della disciplina regolamentare non può essere sottratta all'organo consigliare. Il TAR impone anche al Comune il rispetto dei termini per il deposito della documentazione da rendere consultabile ai consiglieri vista la prassi dell'ente di convocare venerdì il consiglio comunale previsto per il lunedì successivo e definisce i numeri necessari sia per l'istituzione delle commissioni speciali, un quinto dei consiglieri e non un terzo, sia per altre azioni in consiglio comunale e per le mozioni, quest'ultime facoltà anche di un singolo consigliere e non come predisposto dal nuovo regolamento comunale di un numero minimo di quattro consiglieri. Nella sentenza si legge che in base al diritto di presentare proposte, mozioni, interrogazioni, interpellanze, sancito dall'articolo 43 del testo unico degli enti locali, i consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, risultando pertanto illegittima la determinazione di un quorum. Il tribunale amministrativo si spinge oltre e anche su ulteriori articoli del regolamento spiega come debbano essere interpretati in coerenza con lo statuto comunale e comunque in linea sempre con una lettura che garantisca le prerogative dei consiglieri. Hanno vinto la democrazia e la legalità, hanno commentato i consiglieri di opposizione di Santa Marina. Il Tar ha dimostrato ancora una volta la validità delle nostre ragioni e la irregolarità degli atti di questa amministrazione, spesso bocciati come illegittimi quando posti al vaglio delle autorità competenti. Viene ripristinata così, chiosa all'opposizione, la naturale dialettica politica all'interno del consiglio comunale, che era stata annullata con un delirio di ogni potenza.